Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Lo poteva in qualche modo essere evitato? Può essere banale come domanda, ma è un po' la domanda che frulla nella testa di tutti quanti gli italiani. Diciamo che la situazione è stata totalmente inisuale, però ovviamente l'alta montagna di questi periodi con temperature di 10 gradi al di sopra dello zero è tutta pericolosa. È come se avessimo un avviso di balanga 4-5, questa è la situazione. Per cui chi si avvertura in montagna deve tenere presente che quando le temperature sono ben al di sopra dello zero e la montagna è stabile, perché ormai tutti i ghiacciai sulle nostre Alpi sono in disequilibrio. La grande fusione ovviamente aumenta la dinamica del ghiacciaio che è già alta e per cui la probabilità che avvengano crolli è sempre più alta. Questa volta ovviamente è stato un evento eccezionale perché probabilmente si era accumulata a monte del punto in cui si era distaccato dentro a un crepaccio una grossa quantità d'acqua che ovviamente è crollata insieme al ghiaccio e facendo quella che abbiamo visto, quella valanga di acqua, sassi e detriti. Senta, ma viste queste condizioni straordinarie e purtroppo saremo abituati da qui ai prossimi anni perché certo si sta facendo, si sta tentando insomma di rimettere, di porre rimedio alla situazione del cambiamento climatico ma non è diciamo esattamente un interruttore. Per quanto riguarda che cosa si può dal punto di vista della prevenzione c'è chi parla della possibilità di mettere dei sensori insomma in vetta, c'è chi parla invece di fare un bollettino un po' come si fa anche d'inverno per quanto riguarda le montagne. Dal suo punto di vista quale potrebbe essere diciamo una soluzione ovviamente pensando poi a quelli che possono essere i pericoli anche in quest'estate visto che siamo praticamente all'inizio dell'estate e speriamo insomma che non si possa ripetere però ovviamente la natura domina da questo punto di vista. La questione della prevenzione è la cosa più importante, i bollettini diciamo per chi va a montagna lo sa che quando l'isoterma zero è molto alta i pericoli sono più alti e per cui diciamo questo è già un bollettino per chi conosce già la montagna. E' ovvio che se uno dà un bollettino come quello delle valanghe dicendo attenzione pericolo più alto è meglio però diciamo di vieti li sconsiglierei perché non ha senso deve essere la persona che leggendo i pericoli che vengono comunicati si regoli in funzione. C'è il governatore Zaglia che dice diciamo in maniera per cercare di rendere tutto quanto più fruibile parlando proprio delle bandiere rosse che vengono utilizzate quando uno va al mare e quindi impossibilità di fare il bagno. Parliamo della montagna di un territorio che è difficilmente controllabile tra virgolette da un bagnino però potrebbe essere diciamo uno di questi di questi case. Ma esattamente quello che è pericolo valanghe che viene fatto durante l'estate durante l'inverno scusate dopo a valle di grosse nevicate viene detto attenzione pericolo valanghe questo non significa che avvengono valanghe dappertutto e in maniera omogenea. Ci sono dei punti in cui le valanghe possono avvenire in maniera più frequente e altri meno ma questa è la situazione però già la temperatura è come quando noi guardiamo le previsioni del tempo per andare in montagna. Se dicono che piove e tira fulmini uno lo sa che piove e tira fulmini e per cui è ovviamente i pericoli oggettivi che l'alta montagna comunque ha. Cioè non si possono eliminare i pericoli che ci sono nell'alta montagna e in più con il cambiamento climatico stanno cambiando drasticamente le condizioni della montagna per cui i percorsi che prima erano molto facili senza grossi problemi diventano pericoli. E monitorare tutte le aree di pericolo questa non era un'area ad alta pericolosità diciamo fra virgolette però chiaramente è diventata a causa dell'alta fusione che ha immagazzinato dentro al ghiacciaio una grossa quantità d'acqua. Questo fa parte delle fatalità di cui dicevamo insomma prima dell'elenco delle fatalità insomma che si sono messe insieme proprio in quel particolare momento. Ritorno un attimo da cui chi appaventi.